L'avvocato? Ah Nel mondo non c'è mai pace perchè c'è sempre stata la legge rotta forte ma prima quando andavano i ricchi, i urici, gli avvocati ma qualche cosa si faceva la gente era rassegnata e lavorava e quando andava che se non c'erano i ricchi, i urici, i ministri, avvocati, i sindicati le cose non ti botte o non botte fino a che non ti botte all'osso ma prima parte si manava e i figli ho pure e non so che ma poi ci vorrei stare a pagare le tasse non semina e non so che non troverà niente i ricchi e niente i urici e niente i urici questo era l'avvocato ora mi chiede che ne avevo 100 anni ma potete successare magari ma sai non mi preoccupare e dice cosa il mondo capovolge non ce ne accorgiamo si è fatto tanti sacrifici non sta passando niente perchè la gente tutta se l'ha pensata andare a grattare ma il governo siamo noi che dobbiamo andare a pagare ma quella che pagherà la gente più umale, onesta e sacrifici in quantità ma con tutti i tempi oggi c'è fra giochi e poi la neografia il mondo si sta bruciando ma non capisci niente se perdono l'ottario ma c'hai i bambini a scuola da tutti si parla tardi ma come in età Dio solo si parla un po' di cervello un po' di spirito di gioventù forse, forse, che potessimo ieri un po' avanti ma sarà un po' difficile perchè la nuova gioventù sono attenzione tutte le facce le guadagno e l'ultimo mangiano i giudici e guadagno Al posto A posto Perciò ho apposto e poi perchè le s'indicate stiamo facendo che le s'indicate le s'indicate e tempo che c'era la e se abbiamo ripetuto di più meglio di più di più Grazie.